Ciao a tutti ragazzi, sono Fabio e benvenuti al mio canale. Oggi vorrei mostrarvi come fixare correttamente assetto corsa competizione. Giusto ieri è stato rilasciato l'ultimo aggiornamento previsto dalla roadmap e subito non sono mancati problemi. Per chi come me, possessore di un casquette di realtà virtuale come Oculus Rift, i problemi sono venuti subito a galla. Io personalmente ho riscontrato del crash di gioco, un gioco a scatti, del ghosting, ragazzi di tutto e di più. Quindi ho deciso di buttarmi a capofitto per risolvere il problema e su Facebook ho subito trovato un boss di Aristoteles che ci dà diversi consigli per risolvere il problema. Quindi ragazzi inizio subito dicendo che dovremmo armarci di buona pazienza perché questo ci porterà a dover reinstallare il gioco, a reinstallare l'app del VR e a dover applicare delle imbostazioni sul menu iniziale del gioco ma qui ci arriveremo passo passo. Allora ragazzi iniziamo subito. La prima cosa da fare è recarci in questa posizione C, users, nome utend, app data e local. All'interno troveremo questa cartella AC2. Questa cartella va eliminata così. Successivamente ragazzi dobbiamo recarci su documenti, prendere la cartella assetto corsa competizione ed eliminare pure questa cartella. Una volta eliminate le cartelle possiamo aprire Steam, andare su libreria, giochi, selezionare assetto corsa competizione e disinstalliamo il gioco. Una volta disinstallato il gioco possiamo nuovamente dire a Steam di riscaricare il gioco. Nel frattempo che il gioco viene scaricato e installato Aristoteles ci consiglia di reinstallare l'app per quanto riguarda il nostro caschetto di realtà virtuale. Io mi sono limitato a riconfigurare da zero il mio Oculus Rift. Una volta fatto tutte queste procedure e reinstallato il gioco avviamolo, ci richiederà la lingua, inseriamo tutto quello che ci richiede e avremo questa schermata. La prima cosa da andare a fare subito è andare su opzioni, video e qui dobbiamo seguire l'ulteriore consiglio di Aristoteles, cioè quello di abbassare i dettagli degli specchietti. Io in questo caso ho messo su medio e su basso, ma la cosa più importante è quella di andare su avanzate e spegnere il temporal hub sampling e la nebbia volumetrica. Questo farà sì che l'Oculus andrà perfettamente in gaming e adesso vi faccio vedere qualcosa. Eccoci qui a Monza con 28 auto in pista sulla nostra bellissima Ferrari e potete notare come il problema dell'Oculus sia totalmente risolto. Risulta essere molto molto fluido, il gioco molto molto appagante e niente, con queste scene il video si conclude qui. Io vi saluto, iscrivetevi al canale, lasciate un mi piace se il video vi è piaciuto, attivate la campanellina se volete rimanere aggiornati. Un saluto, alla prossima, ciao! Ciao!